Ciao a tutti! Oggi prepareremo la granita alla cannella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più 15 ore di riposo. Ingredienti sono acqua, stecche di cannella e zucchero. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le panche di cannella e l'acqua e accendiamo il bimbi per 20 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. Trasferire in un contenitore con le stecche di cannella e lasciare in infusione per 6 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il composto, adesso lo andremo a filtrare, lo riporremo in contenitori per cubetti di ghiaccio e lo posizioneremo in congelatore per almeno 8 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso i cubetti, adesso mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungiamo i cubetti, chiudiamo con il coperchio senza il misurino, posizioniamo la spatola e azioniamo il bimbi per 40 secondi, da velocità 6 a velocità 8, spadolando. La granita è pronta, serviamola. Granita alla cannella, grazie e alla prossima ricetta! Grazie per la visione!